La storia di Antonella Elia, la showgirl, con Pietro Delle Piane, attore e doppiatore, va indietro di qualche anno. La coppia era stata molto chiacchierata soprattutto dopo la sua partecipazione a Temptation Island nella sua versione VIP, in cui coppie famose hanno messo alla prova il loro amore in un ambiente pieno di «tentazioni». La partecipazione di Delle Piane ed Elia aveva scosso non poco l'opinione pubblica e non solo. I due furono persino accusati da un opinionista di essersi messi d'accordo per poter sfruttare il programma in funzione di ottenere villaggio estivo e aumento di notorietà, invece di prenderlo come vera verifica del loro amore. Benvenuti nel nostro canale. Vi invitiamo a iscrivervi e attivare la campanellina per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. Altri terremoti erano stati causati da comportamenti e, soprattutto, affermazioni di Pietro Delle Piane riguardo ad Antonella, giudicate da molti, compresa Antonella stessa, denigranti e cattive verso di lei. Infine, la coppia era tornata insieme. Nonostante le numerose incomprensioni e questioni da chiarire, sembravano aver ritrovato l'armonia dell'inizio. Proprio in questi giorni, però, l'accaduto avrebbe scosso nuovamente gli equilibri nella relazione. In questa estate torrida, Antonella Elia ha pubblicato delle foto da sogno in cui è in spiaggia, con un mare meraviglioso, in Madagascar, distesa e rilassata come tutti e tutte noi vorremmo essere. Giunge un commento proprio da lui. Pietro Delle Piane. Ti stai divertendo. Sei felice ma vuoi aggiungere che per il paradiso manca qualcosa. Scrive Pietro. Molti prendono un commento come volontà di sbeffeggiare Antonella. Ma è dalla risposta di un utente, subito dopo, che si comprende di cosa si tratta davvero. Manchi tu Pietro. Risponde una fan al commento di Delle Piane. Che, senza dubbio, è contento per il relax che Antonella sta godendosi. Ma ciò che vorrebbe davvero è stare accanto a lei in quel paradiso. Proprio a questo, infatti, si riferisce Pietro. Manca proprio lo stare insieme dei due componenti della coppia per fare sì che tutto sia paradiso. Secondo alcuni fan quanto avvenuto a Temptation avrebbe rinforzato la loro unione e la fiducia che l'uno ripone nell'altra. E viceversa. Trasformando quello di Antonella e Pietro in un vero e proprio sogno d'amore. Grazie per essere stati con noi, iscrivetevi al canale e commentate questo video. A presto con nuovi contenuti.